Forza, come fa a saltare questa roba? Sarà 50 tonnellate, guarda come salta, hop, 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 là, giampiero, giampiero, Ok, ragazzo, ragazzo, ma forza di qua, corre, giampiero, nicchia, giampiero, siamo in mezzo a... Giampiero, giampiero, ma giampiero, porca di qua, Minchia, proprio fuoco leggero, eh, che puttana, giampiero, va a fa' culo, eh, stai lì e crepa, eh, ma chi è che te, chi è, chi è, chi è, ma muori. Minchia, un'arma proprio leggerissima la mia, eh. Fanculo, porca di qua. No, giampiero, yeah, minchia, non è crudele, eh, sto gioco, è educatissimo. Giampiero, dove sei, giampiero? Oh, merda. Eccola lì, quell'arma di merda. Via, ancora, ancora. Un altro tank, oh, merda. Levati. Sì, ricarichiamo l'armona, giampiero, 26 cose, andiamo, andiamo. Dov'è il tank? Ah, va a cagare. Oh, madonna. Lei, giampiero? Oh, ma giampiero non lo beccano mai? A me mi suicidano sempre. Bastardo, va cagher, cagher, di merda. Come lo amo, ma diciamo. Ma vaffanculo, va. Dove sei, giampiero? Oh, notate, io gli sono atterrato davanti e non mi ha sparato una volta. Comunque, T-Zone 3, cioè, ragazzi, guarda che grafica c'ha. Pazzesco. Pazzesco. Da melagodo.com, Johnny Cree. Che culo avermi visto in faccia, eh. Giampiero e Pasquale, Agamennone, Corrado e Nutella. Andiamo a finire il demo di Killzone. Che cosa ci sarà di là? È un pozzo. Ci sarà gente? Oh, che cazzo è? Nascondiamoci, Giampiero, nasconditi, Giampiero. Nasconditi, Giampiero. Oh, adesso vengo io. Ecco, Giampiero e Johnny, faccio un culo della Madonna. È pulito, lo giro solo. Oh, pie, pan, 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 pie, pan, pan, sì, 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 sì. Sì, molto educativo. Molto educativo. Vigilante 2 ha i due appena morti. È disattivo. Ora prendo la maschera e gliela metto nel culo, queste valli. Guarda che idea cicchiale. Area sicurale, Vigilante. Tutto l'opposto, sarò tutti orti. Tranquilla. Ok, ok, tornate alla base e fate rapporto. Ok, ok, va bene, è l'ultima trasmissione. Adesso mi è venuto un'idea, va, vedendo... Ma, ma, eh, Johnny, ma che stai facendo? Che cosa avrà fatto Johnny? Avrà preso i vestiti dei nemici e con lo sguardo imperio va verso la morte. Per non rovinarvi più Johnny Creek, melagodo.com Killzone 3, live, video, in diretta Vi stimo tutti Continuate a iscrivervi Ciao grandissimi Johnny Creek Allora, ciao